Devono capire che il cuore pulsante, chi fa girare il denaro, quindi il sangue di un popolo, siamo noi piccoli imprenditori. Io devo mangiare all'operaio, l'operaio viene da me, io pago la cameriera, la cameriera va a prendere il gelato e i soldi girano. Se loro fanno così, qui salta il video. Da 5 a 18 mila euro al mese per la fornitura elettrica, in pratica un aumento del 350%, punto più, punto meno. Una stangata in grado di mettere in ginocchio qualsiasi impresa in qualunque settore e non solo quelle che, per un motivo o per l'altro, navigavano già in cattive acque. Siamo a Broni e Giacomo, imprenditore di lungo corso nel settore e che attualmente gestisce un ristorante e pizzeria con più di 20 dipendenti, assicura andare avanti così è impossibile. 18.581 euro diviso al giorno sono 600 euro al giorno, una pizzeria. Io parlo a nomi anche dei miei colleghi, ragazze, è improponibile, è impossibile. Rispetto allo scorso anno, hai messo proprio la bolletta dello scorso anno? Ho messo fuori quella paragone che già per me era alta. Infatti mi dispiace se mi lamentato di 5.420 contro 18.581, cioè più di tre volte. Come si va avanti? Io onestamente ho già chiamato anche il comune, gli ho detto fate qualcosa o non fate qualcosa perché io porto le licenze in comune. Vero. Se va avanti così io porto le licenze. Adesso arriva agosto. Hanno già parlato che c'era intorno ai 22.000-23.000. Posso anche ratealizzare ma poi comunque c'è rata su rata alla fine non ci stai dentro. La vostra comunque è un'attività che lo si vede anche in questo momento. Lavora parecchio oppure con queste bollette non ci si sta dentro? La solita frase, lavorare e guadagnare sono due cose diverse. Anche i buoi lavorano nei campi. Però il problema adesso, lavorare e guadagnare, cosa faccio io? O pago i contributi, o pago la tassa dell'immondizia, l'affitto eccetera, o pago la luce. Uno o l'altro. Tutti e tre è impossibile. È impossibile. Ma conti alla mano. Adesso ovviamente ci saranno le elezioni, tante promesse, però la situazione attuale è questa. Vi aspettate qualcosa da nuovo governo? No, io no. Ormai sono veramente, proprio niente. Non mi aspetto più niente. Anzi, niente. Quindi non lo so, non lo so. Non avete idea di come uscirne? Anche perché le bollette sono da pagare? Le bollette le devo pagare. Se mi tolgo la luce non riesco a fare da mangiare. Quindi è impossibile. Le bollette le devo pagare in qualche modo. E non lo so. Uno dice, se avessi guadagnato dei soldi, allora uno dice, vabbè, un mese lo perdo. Ma si può guadagnarsi 18.000 euro al mese? Ciao. Lavoro tre anni, poi non lavoro più, te lo posso garantire. C'è un appello a qualcuno che vuole fare? Cioè, fate qualcosa. Cioè, da qualche parte devono ridurre. Da qualche parte bisogna tagliare i costi. Anche perché la luce ormai è diventata, non è più una spesa variabile, è una spesa fissa. Perché io che abbia cinque persone all'interno del locale, o dieci, il fresco glielo devo dare. I congelatori funzionano, le macchine funzionano, le friggitrici, eccetera. Quindi è una spesa fissa, non è più una spesa variabile. Non è possibile. Cioè, la luce dovrebbe essere nel mio settore, dovrebbe essere un quinto della spesa. Ha superato tranquillamente tutto, quindi è in alto, nella voce di bilancio, è una delle spese maggiori.